oh mi mi ti posso parlare del tutto casualmente ho saputo da fazzi un piccolo particolare sulla morte di nicotra e cioè che non si è suicidato ma che l'hanno strangolando facendo parere che s'era impeccato e non te l'avevo detto no invece avresti dovuto dirmelo immediatamente perché sapevi quanto le parole di quello stronzo di giornalista che ci accusava d'aver indotto al suicidio nicotra mi avevano fatto incazzare adesso che lo sai puoi dormire felice e contento non fare lo spiritoso io adesso voglio che tu lo dica pubblicamente ma che cosa che nicotra è stato ammazzato così io faccio causa a quel cornuto di ragonesi si bravo così la perdi si sentiamo perché 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 non risulta da nessuna parte che lui è stato ammazzato ma tu l'hai saputo fazio mi riferì che te lo disse pasquano si certo me lo disse ma non l'ha scritto sul referto disse che la difesa poteva interpretare diversamente quelle chimosi non è cosa di pasquano preoccuparsi delle tesi della difesa lo so sono d'accordo ma questa volta l'ha fatto che vuoi da me